12 aprile 1961 L'astronauta sovietico Yuri Gagarin compie il primo viaggio nello spazio Per due ore gira intorno alla Terra a bordo della navicella Vostok I Il volo di Gagarin spalanca la porta verso un mondo totalmente nuovo, il Cosmo Erano stati sempre i sovietici a inviare in orbita nell'ottobre del 1957 Il primo satellite artificiale, lo Sputnik L'evidente ritardo sui russi sprona il governo degli Stati Uniti a finanziare in modo massiccio i programmi della NASA Con l'ambizioso obiettivo di inviare per primi l'uomo sulla Luna Grazie a tutti!